Recupera i tuoi indumenti usati, contribuisci così al rispetto dell'ambiente e a migliorare la scuola. Il messaggio del progetto avviato questa mattina presso l'Istituto Comprensivo Marino Santa Rosa di Ponticelli è duplice e si rivolge ai bambini delle scuole di ogni ordine e grado di Napoli e provincia che dovranno raccogliere in appositi sacchi i loro abiti dismessi. La formula scelta è quella del gioco ma l'idea che ispira l'iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza a partire dai più piccoli sull'utilità della raccolta differenziata e del riciclo in ogni sua forma. Si parte con questa idea di trasformare i bambini in maniera anche con un po' di gioco in educatori ambientali. È una bella iniziativa che parte in autonomia qui in questa scuola. Io ricordo che la raccolta degli abiti usati si è già la fa su tutta la città da un anno con grande successo. Questo è un piccolo tassello che si aggiunge, la scuola che fa una iniziativa dove è prevista la raccolta degli abiti usati e soprattutto la gestione corretta della raccolta differenziata. Questa progettualità che si basa su un'idea della scuola casa, cioè della scuola come luogo che ti appartiene, i bambini attraverso la raccolta degli indumenti e i proventi che può venire da questa raccolta una volta che gli indumenti sono stati lavorati, abbelliscono la loro scuola. In collaborazione con la società Imentex che fornirà i sacchi per la raccolta e si occuperà del recupero e riciclo degli indumenti, il progetto è promosso col patrocinio del Comune dall'Asso Commercianti di Ponticelli, già impegnata sul territorio al fianco delle attività che denunciano il racket. I ragazzi sono il nostro futuro, abbiamo pensato a questo progetto proprio per rendere questa città vivibile, stiamo vedendo la terra dei fuochi, quello che ci ha combinato e non vogliamo che il nostro territorio diventi una terra dei fuochi bis. I ragazzi sono le spugne, assimilano le cose buone e le cose cattive, noi abbiamo presentato questo progetto perché ci crediamo. Oltre a tutelare l'ambiente, la campagna di sensibilizzazione investirà sulla scuola, parte del ricavato sarà infatti destinato agli istituti che aderiscono per l'acquisto di suppellettili e materiale didattico. Voglio ricordare a tutti, mettete le buste nelle campagne, lo dico sempre, deve diventare un mantra questo perché è l'unico modo per aiutare noi che siamo in difficoltà con i servizi, non ci nascondiamo mai dietro al dito, ma soprattutto anche per aumentare la qualità su cui noi puntiamo, noi non puntiamo sulla quantità, noi puntiamo sulla qualità di quello che effettivamente va a riciclo.